Sono 491 i positivi in tutta la provincia, 17 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Sono tutti in isolamento domiciliare, 7 sono a Gela, 2 a Caltanissetta, 4 a Butera, 1 a Montedoro, a Mazzarino, a Mussomeli, a Villalba. È stato dimesso dal reparto di malattie infettive un paziente di Serra di Falco ed è stato ricoverato in terapia intensiva un paziente di Sommatino. Al momento sono coperti gli otto posti disponibili nel reparto. Sono 72 positivi di inseni dall'inizio della seconda ondata di contagi.